Ben ritrovati, approvato il bilancio 2021 della Banca del Piceno, che vede l'Istituto crescere e i risultati lo confermano. Le parole del Presidente Mariano Cesari. Sì, siamo in una fase abbastanza difficile, però nonostante questo il nostro bilancio è un bilancio che da un punto di vista dell'utile si attesta intorno al 1.200.000 euro, ma quello che mi conforta di più è che siamo riusciti a rendere la banca sicura, prudente e aggregante. Gli indici di bilancio lo confermano, il rischio per noi è molto basso, credo una delle banche con una rischiosità più bassa tra tutte le 130 BCC italiane e questo ci conforta per affrontare una fase di crisi che sicuramente è alle porte. Con l'aumento delle materie prime, l'aumento dei costi dell'energia, sicuramente avremo delle aziende in difficoltà e le famiglie in difficoltà. E la banca per affrontare questa fase di crisi sia delle imprese che delle famiglie ha bisogno di spalle solide, quindi i nostri indici lo confermano. E da questo punto di vista ci lascia abbastanza tranquilli per affrontare il futuro. Sul territorio stiamo intanzi tutto raccogliendo il risparmio, dobbiamo per forza reinvestire per statuto sul territorio, lo stiamo facendo e anche in una linea di una banca che lavora anche molto sul concetto di sostenibilità sociale, abbiamo finanziato diverse associazioni del territorio, abbiamo anche premiato gli studenti con dei premi che vanno a sostenere il loro futuro e nello stesso tempo abbiamo anche dei rapporti consolidati con l'università, finanziamo anche i ragazzi che con Campus World vanno all'estero a studiare, quindi la linea oramai nostra è questa e la seguiremo anche in futuro.